Va bene, va bene, sto qui, sto qui. Bene, ce l'abbiamo fatta a iniziare dopo mezzanotte, siamo contenti. Ho circa 400 slide, quindi finiremo alle 5, più o meno, questo è il piano. No, a parte gli scherzi, vorrei fare una cosa abbastanza veloce perché siamo tutti stanchi. Quindi, inizio con questa perché questa credo che sia rappresentativa della scelta dell'orario e in effetti credo di aver dato a fondo abbastanza le mie possibilità per garantire una sufficiente dose alcolica. Poi mi hanno anche lasciato questa cosa condivisa qui, per cui diciamo che non manca. Che cosa faccio io nella vita? Mi occupo di supportare attività investigative e fare digital forensics, insomma. Da privato, quindi non faccio parte delle forze di pulizia, supporto loro ma supporto ovviamente anche aziende. In particolare il tema di questa presentazione è la parte mobile. Perché sicuramente negli ultimi 3-4 anni c'è stata una completa inversione di tendenza, 5 anche forse, analizziamo molti più cellulari rispetto a computer. Perché la nostra vita è sui nostri smartphone e quindi è una banalità ma ce l'abbiamo sempre dietro. Il computer è uno strumento che usiamo nel momento in cui siamo al lavoro o a casa ma comunque in un contesto più limitato. Quindi la richiesta di analisi di dispositivi mobile è sempre più crescente. Al tempo stesso le sfide o perlomeno i problemi derivanti ovviamente in parte dall'implementazione di sicurezza dei vari vendor, le sfide aumentano perché c'è frammentazione di mercato in termini di produttori di hardware, in termini di diverse versioni dei sistemi operativi, in termini di customizzazioni che gli utenti fanno. Ci sono nuovi dispositivi che escono, ciascuno dei quali ha componenti hardware, che possono avere delle proprie vulnerabilità che possono essere sfruttate. I sistemi operativi, in particolare più nel mondo iOS ovviamente che nel mondo Android, ma anche nel mondo Android continuano a svilupparsi e ne escono versioni nuove. Il mito della cifratura o comunque delle protezioni, mito nel senso che, come dicevo nel talk di Litiano oggi pomeriggio, io vedo ancora adesso, nella mia esperienza posso dirvi tranquillamente che almeno il 50% dei telefoni che io analizzo mi arrivano sbloccati perché la gente il codice non lo usa, quindi questo va oltre diciamo il problema tecnologico, il problema delle persone, ma meglio, io sono felice che la gente non usi i codici. Stanno aumentando le applicazioni, Sì, riproviamo. Dicevo, milioni di applicazioni, ognuno dei quali decide come salvare i suoi dati, dove salvare i suoi dati, se sul telefono o su cloud, i dati aumentano perché le memorie dei telefoni sono sempre più grandi. Analizzare un cellulare con anche solo 64 giga di memoria e con la classica domanda che si fa alla gente, quante app hai installato sul telefono? La gente di solito ti risponde, ma al massimo 10, 15, poi quando fai un dump vai a vedere 200 applicazioni. Non è detto che tutte quelle applicazioni siano rilevanti per quello che ci interessa, ma anche solo per fare una timeline di eventi. Stavi usando quella app piuttosto che quell'altra app, immaginatevi di fare una timeline di eventi di 200 applicazioni, ognuna delle quali ha i suoi file di configurazione, i suoi database, ognuno dei quali ha un suo formato e dei suoi timestamp. Tanto per darvi l'idea. E poi l'uso del cloud. Quello che è importante è avere un metodo, come sempre spesso in informatica, che può essere anche il metodo a cazzo, però basta averlo, e nell'ambito della mobile avere un metodo è particolarmente importante, perché il nostro obiettivo principale è estrarre i dati, il più possibile dei dati, senza compromettere quelli che ci sono. Al contrario del computer, dove, per quanto ci siano livelli vari di complicazione, io posso estrarre la memoria, l'hard disk, fare un clone, e ho finito e ho risolto il problema, tranne che se c'è cifratura o se l'utente usa meccanismi di protezione diversi, su un telefono questo non è sempre così banale, o perlomeno non è così banale, senza magari compromettere l'integrità di quei dati. Quindi avere un metodo è fondamentale. Non voglio ripercorrere tutto il metodo, ma ora andiamo a una parte un po' più pratica. Cioè, volevo cercare di spiegarvi qual è il mio metodo, o perlomeno qual è la metodologia che seguiamo, che è abbastanza banale, e la cui componente principale, penso di poter dire dopo 12 anni, è l'esperienza, cioè il fatto che io da gennaio a oggi avremo trattato circa, io penso 120, 130, 140 cellulari. Quindi è evidente che più cellulari fai, più sai come approcciare al problema. Il primo problema è capire che cosa ho davanti. Non mi basta sapere ho un Android, ho un iPhone, ho un iOS, devo sapere che telefono ho, che versione del sistema operativo c'è l'installatore di default, che processore c'è. Perché il processore spesso mi permette di valutare se esistono vulnerabilità di un qualche tipo legate a quello specifico processore. L'identificazione può essere fatta in vari modi, l'email è il metodo più semplice, ma anche altri, perché a volte gli email non sono accessibili, sono abrasi, non si leggono. L'email, una volta identificato l'email di un telefono, vedete che anche questo sito, che è email.info, vi comincia a dare una serie di informazioni, Android Lollipop, chipset Qualcomm, e quando noi vediamo Qualcomm nell'ultimo anno ci gasiamo particolarmente, perché Qualcomm ha, diciamo, molti chipset Qualcomm sono vittime di una vulnerabilità, per cui se il telefono, se forzati a un certo comportamento, il telefono entra in modalità Emergency Download Mode, e da lì possiamo fare un dump completo nella nuova area del telefono. Ci torno dopo, non con dettagli, poi se avete domande, ben volentieri, fuori con una birra. Un'ultima cosa è il tipo di acquisizione, qui non voglio essere didattico sul tipo di acquisizione, ma voglio spiegarvi la difficoltà. Il primo approccio è l'approccio più semplice, cioè quello di chiedere al sistema operativo fornisci i miei dati. Chiaramente significa avere il telefono sbloccato, o conoscere il codice, ed è il metodo più semplice, perché mi chiedo al sistema operativo, o installo un agent, che li chiede al sistema operativo, dipende dal telefono, insomma. Questo è il metodo più rapido, ma non vi permette di recuperare molte informazioni, no dati cancellati, solo quello che vedrei sul telefono, semplicemente ce l'ho su un computer, posso elaborare i dati meglio, perché un conto è fare un search su un telefono, un conto è fare un search offline, con dei tool di indicizzazione e ricerca. Questa, diciamo che nel momento in cui avete l'approccio di un telefono, potete farla sostanzialmente sempre. Il secondo tipo di acquisizione è file system. File system vuol dire, non ho la possibilità di ottenere l'intera memoria, in caso 3, ma ho, o attraverso le funzionalità del sistema operativo, esempio il backup, o attraverso una vulnerabilità, o attraverso flashing di specifiche partizioni, posso farmi un'acquisizione del file system che può essere parziale o completa. Che cosa vuol dire parziale o completa? Esempio di acquisizione parziale, quando voi ad Android chiedete di fare il backup, l'Android backup, quella è un'acquisizione, fa il system parziale, è solo quello che il sistema operativo e le varie applicazioni hanno deciso di far finire dentro un backup. Esempio, quando fate un Android backup, su PC, Whatsapp, non viene backupato. Il database di Whatsapp non viene backupato. Se si riesce a fare un full file system, allora abbiamo tutti i file, quindi indipendentemente dall'applicazione. Anche in questo caso è tipicamente necessario avere il telefono sbloccato, tranne nei casi in cui si sfruttano specifiche vulnerabilità. Ci torno con qualche esempio dopo. In questo caso, il recupero di informazioni cancellate può essere possibile. Perché? Perché tutti i dati all'interno di un telefono sono tipicamente strutturati all'interno di file, di altri file. L'esempio più classico sono i database SQLite. Quindi eliminare un chat tipicamente corrisponde con l'eliminazione di un record da un database e in determinati contesti si può recuperare il contenuto cancellato. Terza acquisizione è l'acquisizione fisica. Ottenere un dump dell'intera memoria del telefono. Questa è quella che ci piace di più, ovviamente, perché non abbiamo solo il file system, abbiamo la struttura delle partizioni e abbiamo lo spazio non allocato delle partizioni. Cioè abbiamo la possibilità di carvare, di recuperare dallo spazio non allocato file cancellati. Quindi non solo record cancellati che stanno strutturati dentro altri file, ma file cancellati. Una volta che ho identificato mi devo preparare e quindi capire che cosa fare. Il primo approccio è quello di dire bene, che strumenti ho a disposizione, che tool ho a disposizione, che cosa supportano i tool rispetto al telefono o allo stato in cui si trova, il telefono che deve acquisire e lo stato in cui si trova. Se non ho tool che supportano una determinata acquisizione, provare a identificare metodologie alternative, tecniche non ancora implementate da tool, derivanti per esempio da exploit non ancora noti o noti da poco, testarli, ovviamente non sul telefono su cui dovete fare l'acquisizione e questo è un tema molto importante per noi. La differenza tra chi vuole violare un sistema e se ne frega dei dati che ci sono dentro perché il suo obiettivo è rompere la sicurezza di quel sistema, ecco per noi diciamo che rompere la sicurezza del sistema se ha come effetto di distruggere tutti i dati non molto bene. Valutare le possibilità di approcci fisici, cioè se è fattibile un accesso diretto sostanzialmente alla memoria del telefono, un po' come faremmo con un computer smontando l'hard disk e creando una copia forense. Andrò molto veloce perché se no veramente finiamo alle quattro. Questi sono una quindicina di casi che abbiamo o abbiamo col mio team col mio ufficio seguito quest'anno quindi nell'anno 2018. Partiamo con i casi semplici. Samsung S3 telefono molto vecchio bootloader sbloccato più altri vari tipi di vulnerabilità non ho neanche bisogno di far partire il telefono il telefono parte in download mode cioè non ho bisogno neanche di caricare il sistema operativo per intenderci il telefono parte in download mode inietto una sorta di sistema operativo direttamente in RAM e con quello mi faccio un bel DD della memoria interna del telefono. Tempo di esecuzione per diciamo per far partire l'operazione pochi secondi tempo di acquisizione dipende dalla memoria interna del telefono. Presenza o meno di codice non ce ne frega niente presenza o meno di cifratura ovviamente cambia. Un conto è ottenere il dump un conto è vedere i dati che ci stanno dentro. Scusami? In questo caso è stato usato UFED credo cioè ecco che software mi stai chiedendo sì 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 in questo caso UFED Sellbrite UFED ho cercato di essere ampio quindi ho scelto casi fatti con tool diversi tanto per farvi capire perché il messaggio finale uno dei messaggi finali è non è un problema di tool cioè non esiste il tool perfetto e non esiste un set di tool che vi basta perché serve il cervello prima del software secondo me questo in generale probabilmente. Secondo caso Wiko Fever successivamente poi implementato anche da UFED Wiko Fever ha due vantaggi il primo è che nella sua recovery partition ha già una feature di backup fantastico faccio partire il telefono in recovery mode metto un SD backup full file system della partizione data che è quello che per buona parte mi interessa voglio una fisica dei ragazzi hanno trovato vulnerabilità su chipset Mediatek e hanno sviluppato questo software smartphone flash tools lo scaricate da internet non mi ricordo ovviamente tutti i chipset Mediatek che sono vulnerabili a questo specifico problema a telefono spento collegato via usb senza batteria il telefono entra in modalità modem e con smartphone flash tool vedete tutte le partizioni ok implementato successivamente da UFED Cellbrite software commerciale Samsung G920F S6 questo è un caso particolarmente a cui tengo particolarmente perché è il caso di un ragazzo che si è suicidato a Genova e i cui genitori sono venuti da noi per diciamo lui si è buttato da un palazzo il telefono non si è distrutto incredibilmente rimasto integro si accendeva ma nessuno sapeva il codice questo specifico telefono con la versione di Android di default aveva sostanzialmente la possibilità di flashare la partizione di recovery senza necessità di fare nessun OIM unlock nessuna operazione usb debugging e così via si poteva flashare direttamente la partizione di recovery flashata la partizione di recovery full file system della partizione data dati restituiti alla famiglia in più ovviamente full file system della partizione data significa prendere i file che contengono gli elementi relativi al passcode cracking offline del passcode restituito telefono con passcode noto ok craccato dopo non so se riesco a rendervi l'idea abbiamo fatto prima il full file system e poi il cracking Nokia Lumia 620 questi non ce ne sono purtroppo più eh lo so mi piaceva raccontare un caso divertente e facile però questo è di quest'anno eh cioè quest'anno mi avevo avuto un tizio che aveva un Nokia Lumia 620 ancora è un telefono di 4-5 anni fa direi tutta la serie 20 dei Lumia aveva un problema ha un problema per cui sostanzialmente nel momento in cui il telefono va in modalità di risparmio batteria risparmio energetico Cellbrite ha individuato una vulnerabilità che permette di iniettare un sistema operativo alternativo in fase di boot e quindi fare il dump della memoria senza caricare il sistema Windows Phone la cosa interessante qui è che per poter far funzionare questo metodo la carica del telefono deve essere tra il 12 e il 20% immaginatevi di ricevere un telefono al 100% di batteria doverlo mettere in modalità aerea perché uno dei principi base della forensics è che voglio preservare l'integrità dei dati quindi per evitare che comunichi lo metto in modalità aerea aspettate che arrivi a zero ci vuole del tempo lo lasci lì non c'è la sim dentro aumenti la luminosità a bomba però è comunque il tempo per farlo scaricare ci vuole per fortuna quando arriva a zero e lo attacchi a UFED UFED aspetta che sia a livello giusto e poi fa partire l'exploit Samsung J500FN vedete lì sopra c'è scritto se avevamo il codice o non avevamo il codice così distinguete e poi c'è sempre un riferimento alla provenienza di questo metodo del metodo specifico questo è interessante perché questo si basa su processore Qualcomm e sostanzialmente se ci sono dei failure al momento del boot il chipset fa partire il device in modalità emergency download da questa modalità è possibile fare un dump fisico dell'intera memoria del telefono questo dipende dal processore non è un problema del sistema operativo tanto per distinguere rispetto ad altri casi recentissimo questo è della settimana scorsa e abbiamo usato un metodo questo è di nuovo Cellbrite hanno sostanzialmente individuato un metodo per iniettare a livello di bootloader un sistema operativo e fare un dump fisico anche dei Huawei che sono stati per anni negli ultimi anni e mezzo i Huawei sono stati un po' il nostro incubo e quindi Cellbrite ha investito molto in termini di ricerca e sviluppo fino a un mese fa questa cosa qui questo tipo di acquisizione veniva venduta solamente come servizio cioè non era implementata nei software ma solo come servizio ci torno tra un paio di slide andiamo sui casi che cominciano a diventare alcuni meno fortunati alcuni più carini questo è un telefono SMG355M bloccato codice non noto nessun exploit noto pur essendo un telefono vecchio quando è uscita questa quando dovevamo fare questa acquisizione era appena uscita quella vulnerabilità che ho segnalato lì sopra per cui sui dispositivi Samsung se era attivato il protocollo MTP cioè nel momento in cui attaccate il telefono era di default configurato MTP che sta per media transfer protocol anche a device bloccato si riusciva ad accedere alla cartella dei media e ad altre cartelle del file system solo sui Samsung fino a dicembre 2017 patch dicembre 2017 perché ho messo qua il credits perché quando abbiamo fatto questo telefono Cellbrite non aveva ancora implementato quindi noi abbiamo siamo partiti dal suo codice l'abbiamo leggermente modificato per fare quello che ci serviva poi Cellbrite ha implementato quindi a volte hai dei metodi che nei tool non ci sono ancora ok questo è invece l'esempio post implementazione di Cellbrite quindi questo telefono che è sempre un Samsung ovviamente 105 dispositivi possibilità di recuperare i dati di estrarre non tutti i dati ovviamente dovete sempre immaginarvi che per noi anche tirare fuori un file è già un successo più ne tiriamo fuori meglio anche questo bloccato con codice non noto quindi possibilità di estrarre i file senza necessità qui non abbiamo craccato il codice abbiamo sfruttato una vulnerabilità e abbiamo tirato fuori alcuni file andiamo ai casi dove non si usano i software perché i software non lo supportano o non vogliono prendersi dei rischi Samsung Galaxy J3 codice noto quindi voi mi dite qual è il problema il problema è quello che vi dicevo prima quel telefono non era ruttato unica possibilità tecnica di estrarre dati è Android backup Android backup significa che non avrei preso Whatsapp non avrei preso Telegram non avrei preso Facebook e tutte le applicazioni di terze parti sui Samsung anche se siete in stato di OM lock e mettete OM unlock per quella che è la mia esperienza provatelo solo sui vostri dispositivi questa attività lo diceva anche Littiano stamattina oggi pomeriggio non wipe i dati sui Samsung non parliamo delle ultime versioni di Samsung perché ci torno dopo ma sui Samsung diciamo di fascia media o bassa o comunque fascia commerciale potete flashare una recovery tranquillamente e usare la custom recovery per fare un full file system che è già più che sufficiente rispetto a quello che ci interessa non abbiamo i dati cancellati i file cancellati però è già una grande quantità di dati a volte non ci sono custom recovery su TVRP o su altri siti per fortuna alcuni altri sviluppatori di software di mobile costruiscono custom recovery specifiche finalizzate a acquisire o full file system o memoria fisica del telefono questo nello specifico si chiama Axiom Magnet Axiom questo è su un tablet iPhone torniamo anche sul codice dell'iPhone dopo ma iPhone questo è un caso abbastanza carino avevamo il codice ma era impostata una password sul backup cioè l'utente aveva impostato una password sul backup come sapete in iOS nel momento in cui impostate la password di backup la prima volta questa password viene memorizzata dentro il telefono a partire fino ad iOS 10 questo era un disastro per gli utenti per noi ovviamente per gli utenti anche perché se voi impostavate la password la prima volta di backup e non vi ricordate più la password che avete impostato non potete toglierla non c'era modo di toglierla quindi esempio più classico io ho l'iPhone 8 voglio passare all'iPhone X mi faccio il mio backup avevo impostato la password di backup con l'iPhone 4S che avevo 5 anni fa quando vado a fare il ripristino sull'iPhone X l'iPhone X mi dice bene dammi la password ma che password io non l'ho messa ma l'hai messa 5 anni fa allora Apple siccome un sacco di gente non riusciva ad accedere ai propri dati perché non si ricordavano le password hanno detto va bene spostiamo tutta la sicurezza sul passcode l'unica cosa che serve a garantire la vostra sicurezza è il codice non ti ricordi la password di backup non importa se tu ti ricordi il codice vai in impostazioni vai in ripristina fai ripristina impostazioni e io ti resetto la password di backup questo finalmente Apple ha fatto un'azione a vantaggio degli utenti e di chi fa il nostro lavoro altro caso di flashing della partizione TVRP questo telefono era già OM unlocked qui la cosa carina non è tanto il metodo che è uguale a prima cioè flash della partizione recovery e full file system backup ma il fatto che quel telefono non ha SD quindi uno dei problemi è che poi i dati li devi tirare fuori e da qualche parte li devi mettere per tirarli fuori se il telefono può installare una custom recovery allo spazio per una SD SD backup sull'SD se il telefono non ha l'SD non puoi infilarcelo cavo OTG chiavetta USB backup su chiavetta USB niente di complicato non vi sto raccontando cose ma è solo che quando ci devi poi sbattere la testa e sperare che non si distruggano tutti i dati vi assicuro che sudi molto di più di quanto sto sudendo io adesso questo alt che è abbastanza carino telefono bloccato MOEM unlocked flashing della partizione di recovery backup full file system scaricati i file che contengono il passcode cracking del passcode sblocco del telefono con il codice craccato routing acquisizione fisica ok cioè niente di che parto da qua e ho questa situazione bloccata per fortuna potevo flashare la recovery sono partito da lì ho craccato il codice ho fatto routing per poter fare la fisica e ho fatto la fisica questo è del un mesetto fa tizio che scappava dalla polizia lancia il telefono dal motorino telefono va sotto un camion questa questa era la condizione purtroppo non ho messo una foto piegata era un po' piegato ma per fortuna si era rotta tutta la componentistica si era rotta lo schermo non si accendeva ovviamente ma come sempre prima cosa identificazione che cosa ho davanti 500 J510F Galaxy J5 Qualcomm Qualcomm siamo presi bene Qualcomm perché c'è la vulnerabilità ma come faccio a attivare a a creare una situazione tale per cui questo telefono che non si accende vada in IDL mode beh lo faccio via hardware quindi smonto la schedina la memoria mi collego sui pinout che generano l'operazione corretta per far andare il telefono in IDL mode e con un software questo affare collegato a un computer via USB leggo la memoria interna del telefono questo è un telefono che non funzionava è letto direttamente dalla dalla memoria della scheda fisica questo l'ho messo perché è molto bello io pensavo che Brionvega facesse solo le lavatrici e i ferri da stiro invece ho scoperto quest'anno che Brionvega nella sua vita ha fatto anche telefoni cellulari ha fatto questo bellissimo N7010 che in realtà è un è uno ZTE cioè era prodotto in Cina ed era uno ZTE nessun software di forensics era in grado di capire che quello fosse un telefono cellulare e non un frigorifero ok come abbiamo estratti i dati da questo telefono che grazie a Dio si accendeva e aveva ancora no la batteria non funzionava ma ci siamo collegati direttamente lì gli abbiamo dato in corrente e il telefono si è acceso via USB ho trovato su un repository sconosciuto il bellissimo software Join.me che era il software che ZTE aveva progettato per questa bellissima serie di telefoni che ha prodotto negli anni non so quando 2000 e con il software Join.me quantomeno sono riuscito ad estrarre tutti i dati la cosa carina è che per esempio per i contatti i contatti erano salvati all'interno di un file dove la cancellazione avveniva con una marcatura di deleted sul contatto quindi abbiamo il file di test con i contatti deleted a fianco failure acquisizione fisica di telefono vulnerabilità nessun problema bootloader thumb fisico carico l'acquisizione di software di analisi niente perché allora accendiamo il telefono non in download mode ma accendendolo e ci troviamo davanti questo messaggio password di cifratura password di cifratura evidentemente complessa questa è un'idea su un computer quindi su un singolo computer che tipo di velocità si riusciva a raggiungere con questo tipo di telefono che è un'immagine di un android 4.4 quindi non una cosa recente ovviamente posso aumentare la potenza di cracking perché dico failure perché il caso non valeva la candela era un caso stupido stupido un caso meno rilevante non si può mettere un effort eccessivo su un caso che poi non probabilmente anche questo telefono non era rilevante per l'indagine abbiamo deciso di lasciare perdere questo è quello che vi dicevo seguire quindi non i tool o meglio non solo i tool ma quello che esce in giro questo articolo secondo me è molto carino è uscito quest'anno a gennaio febbraio di quest'anno su una rivista di security su una paper journal di security ed è molto carino perché riassume tutta una serie di exploit che sono usciti nell'ultimo anno e mezzo altri metodi JTAG è simile a quello che vi ho fatto vedere prima con quel Samsung non è quello che mi ha mirato a mandare il telefono in EDL mode ma se io so quali sono i pin per cui riesco ad andare a leggere direttamente la memoria dal telefono posso usare anche questa metodologia è molto non è non è invasiva come invece lo è un'operazione di chip off un'operazione di chip off consiste nel di saldare il chip andare a leggere andare a pulirlo e andare a leggerlo con lettori esteri questo tipo di attività è un'attività che io non faccio non faccio nel senso non direttamente non ho strumenti e competenze per farlo ovviamente quando abbiamo bisogno ci rivolgiamo a società che lo fanno che cosa è successo negli ultimi mesi sul mondo Apple questo ve lo voglio citare perché forse qualcuno di voi l'avrà sentito verso marzo aprile di quest'anno è venuto fuori il primo concorrente di Cellbrite sul cracking di codici di dispositivi iOS che si chiama Grayshift Grayshift è il tool quella scatoletta magica che vedete lì Graykay è la società che lo produce fondata da un ex ingegnere Apple è questo credo che non sia un caso cracking del codice e possibilità di fare sia un iTunes backup che è un file system parziale sia un full file system quindi intero file system del telefono funziona per certo per certo vuol dire che so che è stato usato fino ad iOS 11.3 adesso Apple ha introdotto una nuova misura che si chiama USB Restricted Mode implementata da 11.4 o 1 mi sembra sulla release pubblica perché hanno fatto vari test sulle beta cosa succede con questa nuova modalità dopo un'ora che il telefono è bloccato e inattivo la porta USB va in modalità charge only non accetta più connessioni dati di nessun tipo potete solo caricare fino a che non inserite il codice sullo schermo impedisce qualunque tipo di comunicazione è chiaro che questo comprometterà la possibilità allo stato attuale sembra compromettere per questi tipi di dispositivi e forse anche per Cellbrite la possibilità di fare attacchi sul codice l'unica cosa che so la settimana scorsa una decina di giorni fa i russi di Elcomsoft hanno identificato sostanzialmente che per bypassare tra virgolette questo USB Restricted Mode è sufficiente collegare alla porta Lightning dell'iPhone un qualunque accessorio cioè se voi entro l'ora di blocco attaccate un accessorio sulla porta Lightning allungate un'altra ora la vita del telefono adesso Apple sull'ultima beta pare che abbia introdotto il fatto che questo lo potete fare solo se il device che collegate alla porta Lightning era un device che era già stato collegato prima quindi lì dovete trovarlo come diceva Rebus nelle perquisizioni bisognava trovare anche degli accessori questa è la rappresentazione di Gray Shift che mi piace di più in realtà mi piaceva questa rappresentazione so che è un po' macara ma in realtà è un po' quello che è una delle critiche che è stata fatta a Apple ci sono diversi casi non solo negli Stati Uniti di persone scomorte i cui parenti o le famiglie non avevano accesso al codice è chiaro che se lo valutiamo da quel punto di vista può essere come si può dire può essere scorciante per le persone non poter rivedere i dati dei propri cari ma non voglio fare una valutazione dico semplicemente che è chiaro che il contesto di utilizzo può essere anche quello lì poi ci sono i servizi Cellbrite oltre a fare software fa servizi ciò che scopre di nuovo e che non vuole mettere nei suoi software perché è l'unico che lo fa lo vende come servizio tanto per darvi un'idea di costi una acquisizione di un telefono di cui conoscete il codice acquisizione fisica per esempio di un S8 dove avete un S8 sbloccato e volete un'acquisizione fisica nessun software a meno di fare routing in questo momento è in grado di garantirvela Cellbrite la vende a circa 1000 euro a telefono se dovete fare anche il cracking il prezzo va dai 2 ai 3000 euro ok quindi va sempre valutato se conviene o meno ultime due tre slide se non vi uccido analisi analisi potremmo parlare ore ma quello che voglio evidenziarvi è che anche sull'analisi non potete fidarvi dei tool questo è lo stesso telefono analizzato con tre tool diversi e non vi voglio far vedere tutto vi faccio vedere solo i messaggi tool 1 54 messaggi tool 2 58 messaggi di cui 4 cancellati coerente 58 messaggi di cui 4 cancellati coerente nel senso che 4 messaggi in più tool 3 90 messaggi 36 cancellati non è che il tool 3 è meglio del tool 2 perché se andiamo a vedere un altro telefono instagram tool 1 scusate questo tool è questo tool ok 180 180 213 quello che ne ha trovati 213 è quello che qui ha trovato 54 messaggi e nessuno cancellato applicazioni diverse capacità di recupero diverse perché non vuol dire per forza che un allora nel primo caso in questo caso ve lo posso dire perché lo so questo software interpreta un ulteriore database non solo il database degli sms in android c'è un database che si chiama icing mms non voglio entrare nel dettaglio per troppo tempo questi due tool qua non guardano quel database quando fanno il processing dei dati se ne fottono e quindi non trova gli altri file non trova gli altri messaggi stessa cosa succede qua qui ho 33 messaggi in più da dove vengono fuori i 180 stanno in un database SQLite dell'applicazione instagram gli altri 33 stanno in singoli file json che stanno dentro la cartella dell'applicazione instagram non so perché probabilmente sono le chat che avete le conversazioni che avete aperto in quel momento che stanno in dei file temporanei magari non ancora consolidate sul db o vecchi file che sono rimasti lì risultato qual è queste due applicazioni non fanno il processing di quei file la terza si quindi non esiste un tool di cui vi potete fidare al 100% se non il vostro cervello e le vostre mani fare a mano il nostro lavoro è infinito potete fare analisi di ogni tipo quindi qualitative quantitative tipologie eccetera questo è fatta è volutamente fatta così perché non volevo che leggeste troppo i nomi che cos'è secondo voi bevo perché sto allora uno due tre quattro e cinque sono telefoni caricati dentro lo stesso software punti in comune ho cinque soggetti voglio sapere quali sono i contatti in comune tra questi cinque soggetti interazione chiaramente per certi tipi di investigazione come potete comprendere da certe parole che si leggete per il corso e in altri tipi di investigazione scusate provate a farlo con un excel questo lavoro con giga e giga e migliaia di messaggi whatsapp io vorrei invitarvi a provare ad acquisire il vostro cellulare e guardare quanti messaggi whatsapp avete scritto nella vostra vita cioè un database whatsapp di una persona media è ma minimo 30-40 mila messaggi minimo ci arriva gente che ha 300-400 qui non cancella mai niente ha 300-400 mila messaggi allora se non hai dei metodi di identificazione rapida sei finito ultimissimo esempio carino pensavo fosse un epic fail invece è finita bene galaxy s8 sbloccato fornito dal soggetto che mi ha chiesto la consulenza questa persona mi chiama anzi mi chiama il suo avvocato e mi dice guarda mi tiene avere il telefono sotto controllo monitorato dovete faccio una brevissima prevenza io quando quando mi arriva la gente che mi dice ho il telefono monitorato mi scatta un campanello e cerco di cominciare a pensare se è nel posto giusto o se sarebbe più opportuno fare un triage prima di farlo parlare con noi per decidere se il reparto è informatica forense psichiatria o perché vi assicuro che a volte il livello di paranoia si raggiunge estremo e lo comprende in determinati contesti assolutamente io invece ho Picasso che respinge tutto appena una persona no guardi non facciamo queste cose telefono sbloccato possibilità di attivare opzioni sviluppatore tutto bellissimo fantastico problema se non fai routing o non lo mandi a Cellbrite ma questo era un corriente privato quindi non potevo usare Cellbrite che mi sono dimenticato di dire eroga il servizio solo su a forza di polizia o su autorità richiesta dell'autorità giudiziaria non potevo fare niente avrei potuto tentare di fare routing ma rischiavo di compromettere il telefono e ho detto va bene proviamo a meno a fare un android backup vediamo che cosa ne tiro fuori molto pessimista partivo veramente pessimista sia sul fatto che non potevo acquisire sia sul fatto che questo soggetto dicevo bah risultato comincio ad analizzare i dati estratti tra questi dati nella cartella delle applicazioni trovo un una cartella co cellguard punto app mai sentita mai vista trovo dentro un file appdb col suo journal e trovo una serie di file con un'estensione punto dat estraggo i file punto dat senza neanche estrarli mi rendo conto che questa è un'immagine tiro fuori un paio di questi file file sul file e vedo che sono audio ascolto un paio di audio e sento che è una persona che parla al telefono allora dico beh o lei si è registrata questa roba o quella persona che mi ha dato il lavoro se è registrato questo oppure se mai potrebbe essere trovo anche un file di log file di log contiene una serie di informazioni ho tagliato un pochino quello che poteva essere ovviamente identificativo tra le varie string che trovano il file di log trovo un phone watchman che allora ci comincia un pochino a a crederci phonewatchman.com next generation android phone tracking software questo è il contenuto del DB vi ricordate torno qui app DB database SQLite varie tabelle geolocalizzazione di cella geolocalizzazione di GPS messaggi sms inviati e ricevuti dalla persona messaggi whatsapp inviati e ricevuti dalla persona ultimo step per essere sicuri che fosse proprio quell'applicazione download della pk dal telefono download della pk da phone watchman quindi dal sito al reverse della pk che fa ridere nel senso che Dex to jar apro il jar mi vado a vedere i metodi semplicemente ricerca di tutto ciò che era stringa e verifica rispetto ai nostri file di log e abbiamo ovviamente trovato uploading the file by chunks uploading the entire file e bla 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 quindi l'applicazione installata era esattamente questa in cui non ho avuto un'acquisizione fisica non avevo tutti i dati avevo solo quello che quell'applicazione ha deciso di mettere ha deciso di esporre nel backup quindi anche chi sviluppa sistemi di tracking a volte fa degli epic fail perché va a mettere i file la cosa interessante qua esatto la cosa interessante di questa applicazione è che i dati ovviamente non erano solo sul telefono ma venivano uploadati su un sistema dove phonewatchman.com io mi facevo login con username e password del mio utente e vedevo in real time quello che il telefono monitorato stava facendo la cosa carina qua è che dentro i vari file di configurazione c'era l'indirizzo email usato per phonewatchman ovviamente non l'ho messo e con l'indirizzo email poi da lì è partita tutta l'attività di querela che sta ancora andando avanti ultimo slide non si era registrato con la sua mail originale ma attraverso un'attività investigativa in parte nostra in parte con le opportune richieste a chi dovevano essere fatte si è arrivato ad identificare diciamo non solo su quello diciamo che sapevamo già chi era stato cioè nel senso che era evidente però abbiamo avuto una serie di conferme e poi non so come io parlo del lato tecnico il lato processuale non spetta a me tool o commerciali open e ringraziamenti alle persone che lavorano con me e contatti e grazie scusate della lunghezza grazie allora è chiaro che un punto è fare le stazioni e un punto è fare le stazioni dei dati se il telefono ha parte della cifratura che dipende dall'hardware se il telefono ha parte della cifratura che dipende dall'hardware come è il caso degli iPhone o come è il caso di Android più recenti fare cip off sostanzialmente non serve a niente negli iPhone fare cip off non serve a niente perché l'encryption è basata sì sul passcode principalmente ma è basata anche su un'encryption key che è memorizzata dentro il telefono ed è diversa telefono per telefono quindi fate il cip off ma non avete quell'encryption key perché non lo potete tirare fuori quindi dipende bisogna sempre valutare chipset tipo di dispositivo è attiva cifratura non è attiva cifratura versione nel sistema operativo e così via sì dipende 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 che cosa dobbiamo fare a volte per esempio se usiamo il software che ho fatto vedere prima che si chiama Axiom che ha delle sue custom recovery che permettono in determinati contesti se tu vai a usare una recovery tipo rp o altre non riesci a fare per esempio il dump fisico invece Axiom l'ha costruita per cui tu non è che puoi fare casini segui la sua procedura e lui ti genera il dump fisico non è che voglio semplificare ma a volte usi quel metodo perché hai un software che se tu vai e dici ho usato Axiom non è che lui ti dice sei stato bravo che hai usato Axiom però è comunque un software noto non so come dire e mi fido del fatto che non mi faccia fare una cosa che mi distrugge tutto non mi è mai successo con un tool che mi dice una cosa che mi abbia distrutto tutti i dati il problema è quando il tool non lo sa fare bene possiamo andare a bere grazie